ciao a tutti e piaciuti in questo episodio di Palla con Surial come promesso sto facendo l'aperto guarda un po' qui quanta neve quanta neve sto anche guardando lo schermo della videocamera quindi se per caso ho visto qualcosa qualche merda oppure se c'è qualche pozzanghera ci faccio anche la voluta figura contenti? oh si se siete contenti come vedete ha nevicato un bel po' ieri tutta la notte ha nevicato ora per fortuna ha smesso il vero speravo nevicasse un po' di più come potete vedere sta cadendo la neve sciolta dagli alberi quindi non è proprio il massimo girare con la videocamera così però lo faccio porco demonio guarda un po' filmiamo da quando l'ho messo un segnale di stopper lì? questa stradina mi sa che non ci vengo da anni però ho pensato qual è una stradina dove non passano spesso macchine che di sicuro sarà bella innevata eccola qui ora ve l'avevo promesso però questo è un video per diciamo fare come il grande profeta Matteo Montesi c'è anche gente che passa ma non so questo porco di quel demonio di qua si va per i campi vabbè faccio vedere un paio di anni fa qua c'è trovato una volpe io ho il pantano che merda uuh ribombo figo guarda come ribombo in fondo lì ci sono i campi porco di quel demonio di la si continua e di cui invece non è proprio che ci sia una stradina però mi sono appena ruinato tutte le scarpe ci sono anche dolce gabbana porco demonio lì come vedete è rimasto intoccato viva gli alberi che proteggono le foglie dalla neve ora mi proviene andare indietro perché qui c'è gente poco amichevole andiamo sulla stradina volevo anche rispondere ad alcuni commenti ma qua non trovo un bel posto c'era un tronchetto dovevano portarlo via non so se l'hanno tolto eh si mi sa che l'hanno tolto ma era lì ma l'hanno tolto uh è epico mi sa che qui continua vista ciclabile andrò dentro è davvero un casino che non vengono in questa stradina ah di solito c'è sempre qualcuno che mi accompagna c'è anche qualcuno a lontananza vabbè faccio vedere un po' qua facciamo anche tornare indietro anzi faccio vedere qua che c'è il passaggio del treno ecco vecchietti che mi guardano male probabilmente non so nemmeno qualcosa in mano e tra l'altro mi sa che sto andando in ipotermia perché usare una mano senza guanto per tenere una videocamera non è consigliabile se sentite qualche rumore tra gli alberi qua ci sono tanti cani di andaggi anche proprio bisce guarda sembra che sta piovendo guarda porco proprio sullo schermo dio mamma mia devo fare così ecco il treno vorrei dire che per ora può bastare se trovo un posticino faccio anche i commenti altrimenti c'ho ottenuto per tutti ok facciamo così dato che non ho proprio voglia di tirar fuori il libretto con le domande e rifarlo un po' dato so che non tutti guardano i miei video fino in fondo intendo quella di gameplay vediamo se c'è qualcuno dietro no non c'è nessuno che è piuttosto imbarazzante no girare con una videocamera così a random ma io lo faccio io sono surreale io posso allora il mio canale sta andando piuttosto bene all'attivo dovrei avere circa 9 serie compreso Apple Wheels ehm quindi si sta andando piuttosto bene ho sempre video a caricare a parte questi ultimi giorni come vedete perchè sto avendo problemi anche tecnici della serie un giorno si è andata la corrente e mi sono falliti due upload e io di giorno non posso caricare perchè non sono l'unico ad utilizzare internet posso caricare solo di notte e poi cos'altro ehm vabbè ieri mi ha proprio fallito l'upload qua c'è proprio neve oh e non ho decisamente voglia di foglia foglia non ho decisamente voglia di farlo al chiuso Dio Dio che freddo vi faccio vedere un po' si dai si col cappellino molto molto affondare ho anche sonno come potete vedere ma si ma dai rigiriamo che mi frega da mia faccia volete vedere la neve no? volete vedere la neve no parla con Surreal no? guarda la faccia di Surreal sorry ma io mi ci stavo abituando al che freddo 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 è vero vicino a casa mia c'è anche una casa abbandonata no? io quasi quasi il studio al grillis lo vorrei fare un episodio stile studio al grillis guarda un po' qua distese di neve mi fermo un attimo mi metti a fuoco stupido carlo mi metti a fuoco vabbè c'è l'albero davanti naturalmente mi mette a fuoco l'albero sembra giusto scusate se la camera trema ma giustamente fa un freddo boia ho lo zoom non potete aspettarvi di meglio ora finalmente potete apprezzare la vera qualità di questa camera perchè al chiuso più che altro quando c'è poca luce o c'è una qualità di luce poco buona diciamo le camere non professionali diciamo quelle non reflex più che altro hanno il rumore video che è una frappata assurda bisogna sempre avere la luce davanti sennò si vede di metta proprio di metta 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 oddio che freddo ieri faceva freddo ma non così tanto vabbè le mie solite passeggiate durano anche un po' di più quindi mi sa che questo video però lo tagliamo perchè solo camminare così nel freddo è un suicidio per me ragazzi sono senza guanti sono senza guanti con i guanti forse sarei potuto andare un po' più avanti e quindi si chiama fatemi sapere se volete una cosa di surreal glace non so però se sia l'ideale perchè è vicino a delle case e poi sento dei rumori a fine che mi becco anche la denuncia che cos'è questa cosa? che cosa? non vorranno farci un presepe spero non posso farvi vedere il cartello perché c'è scritto il nome del posto comunque guarda un po' qui se vogliono fare un presepe mi sa carino è carino poi con la neve ancora più realistico e poi continuerò a fare un po' ora vado faccio la solita passeggiatina che poi oggi è anche venerdì o sto agitando di venerdì no di sabato che festa è lotto l'unica cosa buona è il cristianesimo tante feste ok forse questa è un po' fuori luogo ok ragazzi beh penso che per questo video per questo vlog video log nella neve guarda qui guarda qui la neve anche qui la neve penso possa essere tutto io vi saluto ciao a tutti a tutti stile il microjet grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti